e ciao ragazzi e benvenuti qui sono il vostro lorenzo e oggi siamo qui in minecraft vaniglia vaniglia la nuova serie vanilla vaniglia oggi però giocherà thomas quindi io non farò niente e quindi ora facciamo la lucida che cacchio sta roba l'hai fatta tu cosa no è la mossi cobblestone della taiga ah è normale no ok ci mancherebbe solo che mancherebbe e poi aerobrine magari no nella 1.12 non credo che ci siano segnalazioni comunque io direi di uscire fuori dalla questa taiga perché come nel primissimo episodio del mio canale sono spawnata nella taiga si buona idea comunque adesso usciamo da questa orrenda taiga magari aggiungo un po di luce ma spina decidi mangiare buona idea la mela no è un po rotto questa roba devi tenere premuto per molto tempo guarda ok ok ragazzi perfetto ho mangiato guarda come faccio lo youtuber perfetto no ma più alto non vorrei vedere brutta qualità nel video no no forse funziona forse forse e vabbè niente uccidi le pecore ok buona idea so che sembra adesso un hacker però va niente vai con l'ascio ma non col piccone se colpisci col piccone è come è il peggio di cerebro è un po lascia ok vabbè sicuro però sento eh non ho un cacchio non ho niente va bene ok ragazzi che ragazzi abbiamo quasi finito il letto e dov'è 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 no 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 la pecora la pecora eccola eccola muori cos'è eh niente recupero e buttarsi non mi preoccupate allora abbiamo ok abbiamo due grigi oscuro ma legno 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 ce l'abbiamo invece ok perfetto allora vabbè io direi solito di farmi un letto il casino ma proprio giro si sono due white no perché perché siamo in un punto 12 ci servono tutti l'ana dello stesso colore perché così viene il letto bianco dobbiamo trovare un'altra pecora bianca o grigio scuro presto ok ragazzi no cosa fai aiuto ah giusto vedo sopra no dai poi ti faccio il test di minecraft cioè sull'online white bed white bed ah ok sweet dream ok achievement magari se l'achievement migliore sai quale è la città quale è più difficile how we get here devi avere tutti gli effetti del gioco allo stesso momento tutti gli effetti del gioco allo stesso momento si è rarissimo cioè se ne hai tutti nel senso ma tutti nel senso wither quello che ti fa lo shulker tutto anche quelle lì si chiamano gli effetti si quelli sono tutti gli effetti anche tutte le azioni ok ragazzi a questo punto ci tocca uscire ci tocca uscire sì certo che ci tocca uscire cioè quello c'è da qui una però perché la taiga è il miglior posto dove fare una famiglia di zombie cioè praticamente gli zombie che ci vivono allegramente dato che ci sono tantissime ombre quindi è meglio andare via proviamo un altro piano che poi la cosa bella di minecraft è che c'è un sacco di bio ci sono un sacco di bio in un unico mondo è vero ma anche un altro achievement è che scopri tutti i biomi sembra facile invece è impossibile perché sono 40 immaginati la mezza come faccio io arrivare nell'occhio mi che fortuna ok ragazzi esatto non vedo non vedo uscita da questo bioma esatto cazzo dobbiamo andiamo avanti perché la stavo dicendo forse forse no cosa altri alberi no no è enorme credo sia una mega taiga le mega taiga sono è uno dei biomi più rari che esistano oh forse dai cos'è sì vai 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 nell'acqua c'è un po di laggio ok ragazzi abbiamo trovato questo deserto magari potremmo andare prendere una barca andare a esplorare però credo che questo si potrebbe fare nei prossimi episodi perché perché secondo me è ancora una cosa allora io inizio solo a cacciare un'ascia si metti un'ascia allora le asce stanno sai come farlo credo no ragazzi sono un noob dai poi ti faccio il testo su minecraft ok si no vabbè una cosa è che il suo minecraft è pieno di base vabbè iniziare iniziare già a spaccare un po di alberi così dalla cavola così possiamo anche costruire ok ragazzi io penso che il video possa finire qui io spero che il video vi sia piaciuto commentate per altri video mettete like se il video vi è piaciuto ciao ragazzi